La notizia è di quelle destinate a creare un putiferio. Il procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele Dominici, ha infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale di tutte le leggi, a partire dal 1997, che hanno, attenzione, reintrodotto il finanziamento pubblico dei partiti. E questo perché quanto deciso è stato fatto in difformità con quanto proclamato dai cittadini con il referendum dell'aprile del 1993. Sentite cosa si legge. Si solleva questione di legittimità, giacché le disposizioni posteriori sono da ritenersi apertamente elusive e manipolative del risultato referendario e quindi materialmente ripristinatorie di norme abrogate. Risultato, per la Corte tutte le disposizioni impugnate dal 1997 e via via riprodotte nel 1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012 non hanno fatto altro che reintrodurre privilegi abrogati con il referendum del 1999. Ma dalla Corte dei Conti oggi le bacchettate e la politica non si esauriscono certo qui. Nel Mirino c'è finita la Regione Lazio. Dieci anni di insolvenza per un buco di 4 miliardi di euro come un paio di manovre sul limo, cifra ingente. E a proposito di politici, chi ha governato il Lazio negli ultimi dieci anni? Perché forse è proprio ai vari governatori che andrebbe girato il rilievo dalla Corte. 4 miliardi e 400 milioni di euro, per essere esatti, è la cifra del disavanzo con cui la Regione ha chiuso il 2012. Ma sono comunque le parole usate dai magistrati contabili nella relazione a rendere drammatica la situazione. Un fiume di denaro è stato sprecato, si legge, in progetti inattuati e cambiati subito dopo la loro approvazione. E ancora, la Corte accende i riflettori sull'utilizzazione parziale dei fondi comunitari, definisce al collasso il sistema degli appalti pubblici, ritenendo indispensabile avviarne la riforma. La spesa ospedaliera, afferma la Corte, a volte squilibrata e inefficiente, richiede un riordino e lo stop degli abusi registrati. Mentre la programmazione per garantire l'indispensabile equilibrio di bilancio appare in idoneo, anzi perfettamente idoneo a produrre disavanzo. Reazioni? Per ora quelle del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. È una situazione drammatica e catastrofica, ma, afferma, l'abbiamo sull'ereditata.